Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlare di alcuni prodottini che ho acquistato da Sephora e sono prodotti Benefit. Ho voluto prendere tutte le mini size perché io le adoro e poi trovo effettivamente che sia molto conveniente perché comunque non sempre si ha la possibilità di consumare tutti i cosmetici e si sa che dopo un totale di tempo scadono, quindi è peccato doverli buttare via che sono ancora pieni. E vi faccio vedere subito che cosa ho acquistato. Allora ho preso il roller lash in miniatura anche perché volevo provarlo quindi non costa pochissimo, perciò ho detto preferisco prendere questo piuttosto che la taglia grande e poi eventualmente se mi dovesse piacere e dovessi trovarmi bene magari prenderò anche l'altro. Poi ho preso Hula, finalmente la terra, bellissima questa famosissima di Benefit, sempre piccolina, la scatolina è adorabile, ha lo specchietto, il pennellino e all'interno c'è la terra ben protetta. E per ultimo ho preso il Gimme Brow, il mascara. Non ho preso la matita perché di matite ne ho altre al momento e quindi volevo provare questa cosa che è carinissimo, cioè è troppo carino ed è fatto in questo modo qui con un pennellino minuscolo che è perfetto. Perfetto. E siccome io mi devo tra l'altro sistemare le sopracciglia, No, canti tanta, canti tanta, canta tanta, canta tanta, bene io con questo video è terminato, vi mando un bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!